Sono oltre 23.300 gli aretini che hanno ricevuto la prima dose, 7.962 quelli che hanno fatto invece anche il richiamo. Prosegue così la campagna vaccinale anti-covid nell'aretino, provincia capofila dell'intera area bassa con il maggior numero di dosi inoculate. In tre giorni dunque da martedì ad oggi sono state somministrate 2.882 dosi in più ed eseguiti altri 887 richiami. Per quanto riguarda la prima dose nelle RSA ne sono stati iniettate 1.449. Gli operatori scolastici ne hanno invece ricevute 5.125, 6.867 per il personale sanitario, 823 per le forze di polizia, 658 invece per il personale degli uffici giudiziari ed infine 1.429 per il personale non sanitario che opera nelle strutture sanitarie. Infine gli ovvero 80 che hanno ricevuto la prima dose sono 6.221. In provincia di Arezzo sono poi iniziate anche le chiamate per le seconde dosi di 7.962 che hanno completato il ciclo di vaccinazione, 5.589 sono operatori sanitari, 1.273 ospiti di RSA e 949 personale non sanitario. In tema di prodotti infine vediamo che ad oggi in provincia di Arezzo sono state somministrate 15.106 prime dosi e 7.354 richiami di Pfizer-BioNTech. Il Moderna è stato utilizzato invece come prima dose 1.468 volte e 608 richiami, mentre dell'AstraZeneca sono state fatte 6.730 iniezioni.